Alla segretario del Partito Democratico, onorevole Pierluigi Bersani, il più cordiale saluto, così come saluto cordialmente tutti i partecipanti a queste giornate che so essere state preparate accuratamente da tempo, così che le discussioni, i rilievi e anche le critiche di questi giorni possano portare a realizzare qualcosa di utile. Al saluto cordiale unisco anche il ringraziamento per essere stato invitato a tenere questo discorso pubblico, che è anche il primo discorso pubblico dall'assunzione dell'Ufficio di Ministro per i beni e le attività culturali. Discorso pubblico e discorso breve, il quale più che un elenco parziale di necessità delle tante cose possibili da fare in tempi indefinibili al momento, intende essere una serie di riflessioni, anzi più precisamente forse di opinioni personali che ritengo peraltro utile qui esporre, che in forma più sistematica presenterò a breve alla Camera e al Senato. Credo che sottolineare con insistenza il fatto che siamo immersi in cambiamenti estesi, profondi, dal ritmo intenso, che per dir così siamo da tempo impigliati in una rete di trasformazioni che sappiamo interdipendenti ma di cui spesso non conosciamo tutti i nodi e tutte le principali connessioni, non sia un modo per sfuggire la realtà dei fatti. E semmai, a mio giudizio, la constatazione di partenza non solo per non replicare vecchi schemi di interpretazione di ciò che sta accadendo, ma anche per liberarci dal blocco ormai di azioni obsolete. Quella che continuiamo a chiamare crisi e che in realtà, pur nelle sue varie declinazioni parziali, crisi economica, crisi sociale, crisi politica, crisi morale, è in realtà la manifestazione da tempo di questa serie incessante di cambiamenti, ci avvicina certamente, quella che impropriamente chiamiamo crisi, ci avvicina certamente e pericolosamente al vero momento di crisi, che è sempre appunto momento puntuale, momento di spaccatura, momento da cui ci si salva, che apre il periodo della salvezza, della rigenerazione, del rinnovamento o invece suggella definitivamente il declino. Chi maggiormente ha studiato da un punto di vista storico i grandi sistemi e i grandi sistemi che declinano, li ha studiati diacronicamente, li ha studiati in chiave comparata, ci ha da tempo mostrato che un sistema, un grande sistema in tutte le sue componenti economiche, politiche, sociali, istituzionali, davvero diventa irreversibilmente in decadenza quando non ha più nessuna capacità di innovazione culturale. Ma quando una cultura è vitale e soprattutto come, pur consapevoli che i nostri schemi sono vecchi, che il nostro linguaggio è insufficiente, quando possiamo tornare a produrre cultura nuova. Credo che questo sia il tema fondamentale, certamente non si potrà risolverlo nel giro di poche settimane o pochi mesi, ma credo che cominciare a individuare le principali questioni nella loro essenza, abbandonando anche molti dei luoghi comuni che li avvolgono sia importanti. La cultura è vitale quando produce visioni culturali, e adopero non per caso il plurale, le quali visioni culturali a loro volta devono produrre visioni autenticamente politiche. La debolezza della cultura è anche fonte della debolezza della politica. Il rapporto fra cultura e politica è sempre stato strettissimo, ed è la fecondità di questo rapporto dunque sempre storicamente dipeso, il grado di vigenza, il grado di vitalità, la capacità di superare le crisi ricorrenti da parte dei sistemi. E' in questo senso che personalmente intendo la pur usurata espressione cultura come risorsa, e anche intendo o declino quella che con altrettanta frequenza viene chiamata società della conoscenza, forse più appropriatamente dovremmo chiamarla società della cultura. cultura dunque come fonte di visioni culturali che a loro volta, come dicevo, siano in grado di aumentare visioni genuinamente politiche. Cultura come volano reale della crescita e dello sviluppo della società. Senza un rinnovato slancio culturale d'altro canto, nemmeno sarebbe possibile porre mano a quel nuovo modello di sviluppo sulla cui necessità più volte ha insistito Benedetto XVI. E' dentro questo quadro, è sulla base di questa convinzione che mi appresto a proporre appunto alle commissioni parlamentari alcune iniziative. E qui rapidamente ne fornisco un elenco sommario di cui in anticipo chiedo scusa se le omissioni superano le presenze. Credo che un primo fondamentale punto sia quello di agevolare, agevolare davvero chiunque intenda sostenere e contribuire alla cultura e alla produzione di cultura, semplificando al massimo le procedure favorendo ogni tipo di agevolazione. Oggi sulle sponsorizzazioni grave il 21% di IVA mentre sui lavori edili di restauro il 10%. La deducibilità fiscale delle somme che i privati cittadini decidono di elargire per sostenere ad esempio un teatro o un museo della propria comunità territoriale pari al 19% della cifra erogata con procedure valore, vale la pena sottolinearlo, quasi sempre o sempre complicate, faraginose, demotivanti. Possiamo continuare a permettercelo, penso proprio di noi, anche se un primo forse importante risultato è stato raggiunto, introducendo gli interventi culturali e paesaggistici tra quelli finanziabili con il 5 per mille. Ora però bisogna applicare al meglio questa norma, bisogna comunicarla ai cittadini in maniera adeguata e ancora non basta. Bisogna permettere un rapporto sempre più cooperativo fra cittadini, imprese, cittadini privati, imprese e Stato, tra chi decide di impegnarsi in prima persona per contribuire alla salvaguardia di un bene culturale. Tutto ciò lo si fa naturalmente in condizioni che sappiamo essere difficili, ma vale la pena riportare in breve la radiografia del presente. La spesa del Ministero è passata da 2 miliardi e 241 milioni di euro del 2001, che erano pari allo 0,37 del bilancio dello Stato e lo 0,18 del PIL, a 1 miliardo e 718 milioni di euro del 2009, quindi lo 0,23 del bilancio dello Stato e lo 0,11 del PIL, cifra dalla quale non si è poi scostati molto negli anni successivi. Mentre le erogazioni liberali in favore dei beni culturali sono passate nello stesso periodo da 17 milioni di euro, cifra risibile, a poco più di 29 milioni di euro, appunto passaggio molto lento, molto faticoso, proprio per colpa della burocratizzazione eccessiva e di una normativa, a mio giudizio, punitiva nei confronti dei cittadini contribuenti. Ulteriore punto. Il blocco del turnover che è stato imposto a quasi tutte le amministrazioni a partire dall'inizio degli anni 90, con misura concordata con l'Europa per l'abbattimento del debito pubblico, ha avuto ripercussioni pesanti sulla amministrazione del Ministero. L'età media dei dipendenti, cito questi dati, perché abbiamo sentito molto parlare di giovani, della questione dei giovani, mi veniva in mente, lo dico, a scopo di completamento del dibattito culturale, una splendida pagina, spesso dimenticata, ma non dimenticata da tutti, di Max Weber, quando il grande sociologo tedesco Germania, ormai crollata a età di Weimar, iniziata con tutti i rischi che egli avvertiva, in una splendida pagina ai suoi studenti dice, non ho mai ritenuto che un mio interlocutore avesse ragione soltanto in virtù o in forza dell'età, quindi anche qui si tratta di comporre le diverse esigenze, però sicuramente l'età media dei dipendenti è ormai attestata del Ministero sui 55 anni e il mancato ricambio determina un vuoto di saperi, già che appunto i più anziani non riescono, non sono in grado, non avendo giovani, di trasmettere le loro esperienze, spesso davvero impareggiabili. Si è passati da 25.000 dipendenti del 2001 ai 18.839 del 2011, anche se una prima significativa inversione di tendenza si è avuta con l'ultima legge di stabilità. Sono state sbloccate, come sapete, 308 assunzioni fra architetti, archeologi, storici dell'arte, bibliotecari, archivisti e amministrativi. Non saranno più dunque i famigerati interim delle sovrintendenze e la tutela sarà garantita con fido in maniera adeguata. Se ciò dovesse avvenire anche, questo incremento, nei prossimi due anni, il Ministero sarebbe in grado di colmare il divario generazionale dei suoi dipendenti e anche questo credo sia una linea da percorrere. E peraltro, credo, proprio per la situazione in cui ci troviamo, situazione pesantissima per molti aspetti, ma che sarebbe forse di difficile tollerabilità da parte della cittadinanza se non ci fosse un credibile progetto di sviluppo. È necessario ancora di più che in anni precedenti fare il possibile perché appunto i beni culturali, ma consentitemi la cultura in generale, possa davvero diventare elemento di produzione e non solo economica, e non solo economica, culturale. Per incrementare le risorse pubbliche e economiche è doveroso sfruttare al meglio le opportunità che ci vengono dall'Europa. Il quadro delle risorse comunitarie per l'Italia del Sud dal 2007 al 2013 prevede un totale di risorse pari a 34,99 miliardi di euro disponibili, divise in varie linee di intervento. Di queste solo il 16% è stato programmato e solo il 9% speso. Quindi ci sono ancora all'incirca 31 miliardi di euro da investire e da investire razionalmente, oculatamente, intelligentemente. Si è già conseguito un primo risultato grazie al lavoro svolto dei due già ministri, Fitto e Galani, insieme con il commissario europeo Johannes Hahn. Sono stati assegnati 105 milioni di euro per la salvaguardia di Pompei. Io stesso, credo, è stato uno dei miei primi atti, insieme con il ministro Barca, poter appunto disporre di questi fondi. Ulteriore iniziativa di questo breve elenco, la riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche. La trasformazione degli enti lirici in fondazione di diritto privato ha, per molti aspetti, non ha, per molti aspetti, conseguiti risultati che si speravano, nonostante la buona volontà di molti. Si volevano responsabilizzare gli amministratori, rendendo i teatri una realtà privata, privatistica, che doveva operare secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio. La realtà al momento è ancora diversa. La privatizzazione è rimasta sulla carta, la gestione non è stantiprontata allo spirito di imprenditorialità voluto dalla norma. E la situazione si è fatta davvero allarmante. Un deficit di 160 milioni di euro, accumulato da 13 fondazioni, debiti iscritti nello Stato patrimoniale che superano i 290 milioni di euro, nonostante che il finanziamento pubblico statale rappresenti quasi la metà del fondo unico per lo spettacolo. Una spesa per il personale che assorbe circa il 70% del finanziamento pubblico. Sono dati noti a voi tutti. E certamente anche le linee di intervento sono note, possono appunto suonare retoriche in quanto cose semplici da fare ma che sembra impossibile realizzare. E peraltro per migliorare la vita dei teatri dirici italiani davvero occorre razionalizzare il più possibile i costi del lavoro. E sono consapevole personalmente che la riforma varata dal precedente governo non è stata ancora, per dir così, metabolizzata. Il varo del regolamento che garantisce l'autonomia e le fondazioni che sappiano dimostrare efficienza, corretta gestione e adeguata internazionalizzazione è stato un passo importante ma sul resto, sulle altre norme occorre riflettere. Mi intenzione è chiedere, vista anche l'imminenza della scadenza, chiedere la proroga di un anno del termine per il regolamento di riordino delle fondazioni liriche, così da consentire assieme alle rappresentanze parlamentari e alle parti sociali un più approfondito dialogo alla ricerca di una soluzione ottimale. Nello stesso modo credo che occorra che vada messa in cantiere un'adeguata riflessione sul tema della formazione di una delle professioni di eccellenza del nostro Paese, la richiamava anche il Presidente della Cruy, quella dei restauratori. Il disegno di legge del Governo va riconsiderato, anche qui va riconsiderato con un dialogo fra tutte le parti politiche e sociali e va peraltro velocemente approvato per salvaguardare migliaia di giovani che hanno creduto in questa professione. Così come va, tempo permettendo, ravvivato il disegno di legge sulla qualità architettonica, che impegna le amministrazioni pubbliche ad affidare a concorsi di idee la progettazione degli edifici pubblici e, infine, almeno come titolo, certamente va sollecitato il Parlamento a una rapida discussione del disegno di legge per l'inasprimento delle pene per i reati a danno del patrimonio culturale. E peraltro, sono alla conclusione di questo mio breve discorso e saluto, peraltro credo che, soprattutto in un momento come questo, delle molteplici iniziative, quelle da me indicate, le tante altre possibili, le tante altre su cui le commissioni parlamentari mi forniranno le loro indicazioni, vada colto l'elemento di unitarietà. Vada colta la necessità che sulla base di questo elemento di unitarietà si faccia, per adoperare una formula molto ripetuta ma efficace evocativamente, si faccia sistema. E questo proprio perché l'elemento unitario di tutte queste iniziative è ciò che maggiormente consente, maggiormente dovrebbe consentire nella percezione dei cittadini, nella fruizione stessa dei cittadini, l'idea e il tramutare queste idee in realtà che appunto il nostro patrimonio culturale, la nostra cultura va valorizzata il più possibile, va promossa oltre che adeguatamente salvaguardata. Sono infatti convinto, e torno così da dove sono partito, che il nuovo modello di sviluppo con alla sua base e, se posso aggiungere al suo cuore, questa idea alta di cultura sia non solo questo nuovo modello di sviluppo il grande progetto a cui il Paese deve lavorare, ma sia anche uno degli strumenti principali, forse ormai il solo strumento che abbiamo a disposizione per orientare i grandi cambiamenti in corso, per riprendere in mano i fili della nostra vita associata, per riprendere in mano il nostro domani. Certo ciò ci richiederà in molti casi un diverso stile, richiederà diverse modalità di azione rispetto al passaggio, richiederà anche protagonisti diversi o diversi delfini, anche se nella storia molti delfini sono diventati re, molti delfini sono morti delfini. Richiederà anche e soprattutto un diverso linguaggio. Credo che questo sia per tutti noi che non solo ci occupiamo, ma amiamo la cultura, una responsabilità davvero importante in questo momento storico. Grazie. 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 Grazie.